C'è nessuno? Signorina Molotov? È permesso? Non posso credere che tu l'abbia conservato. Mi piace farlo con gli stivali. Allora, fa male, mio piccolo dolce Samson? Ora la mamma ti dà un bacino e starai meglio. Incredibile. Assolutamente incredibile. Aspetta, aspetta! Si è presa le sigarette! Tu mi vuoi veramente, Enzo? Tuo padre non ci permetterà mai di stare insieme. È una vecchia testa di rapa e mi vuole tutta per sé. È un cretino. Sì, Hank, è vero. Ma non c'è niente che tu possa fare per cambiare. Uccidi papà! Uccidi papà! Uccidi papà! È l'unico modo. È l'unico modo. È l'unico modo. Uccidi papà! È l'unico modo. 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 Grazie a tutti.